La consulta della legalità, un organismo di partecipazione rivolto alla diffusione e difesa dei valori di legalità, è aperto ad associazioni, sindacati, organizzazioni datoriali e studenti e in via di istituzione su iniziativa del Consiglio Comunale di Foggia. Dopo quasi dieci anni di discussioni, finalmente in queste settimane l'iter per la costituzione della consulta volge alla conclusione. Io in qualità di Presidente della Commissione Regolamento, in quanto Presidente del Consiglio, ho convocato quattro riunioni a partire dal 24 novembre della Commissione stessa, avente ad ordine del giorno la consulta della legalità. L'ultima riunione l'abbiamo avuta il 24 di marzo, che purtroppo è andata deserta, anche se io ovviamente ero presente, però abbiamo comunque i termini tecnici per iscrivere all'ordine del giorno la consulta della legalità al prossimo Consiglio Comunale utile, cosa che assolutamente farò perché ritengo sia un dovere da parte delle istituzioni dare delle risposte ai cittadini in questo momento di grave crisi della legalità. Un argomento inseguito per dieci anni approda finalmente in aula a pochi mesi dall'insediamento della Commissione Regolamenti, l'organismo consigliare, cui spetta tutta l'attività preparatoria da sottoporre al giudizio finale del Consiglio Comunale. Dobbiamo affiancare alla illegalità organizzata la legalità organizzata, che deve essere un concetto che dobbiamo declinare tutti i giorni, a cominciare dai piccoli esempi fino poi a diventare purtroppo alle estrinsegazioni massime a cui abbiamo assistito qualche giorno fa. Il senso che le istituzioni devono dare di piena vicinanza ai cittadini, agli imprenditori, per dar loro coraggio, perché no, anche e soprattutto per denunciare i fenomeni di malavitosi e del racket delle estorsioni.